E la bambetta! È un barbezza! È un barbezza! E la ciaぞ! Bambetta! Lotta ho venuto sia una chissà da cazzo! Scalato tutte cose non c'è normale o non c reality! Scalato tutte cose, Ancient mimétate ! Non c'è asynchronous o non craphola! Henri loot! Marie ! Marie ! Vai! Farmi di rio! Mario! Passate la pabbeh, passate la pabbeh! Certo Alex, certo Alex! Paglio! no 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 non si fa la veloce eccoci qua un chilo si chiama 4 e 2 e 6 e 1 e 6 aiuto allora com'è mi manda uno scavoneo da casa 50 cent ma allora sai che cosa è